Un'intera estate di polemiche per la balneabilità del mare, tra Pescara e Montesilvano, una stagione che ha subito delle forti ripercussioni. L'associazione Nuova Saline fa gli stessi controlli dell'arta, porta avanti dei campionamenti e che cosa scopre? Che la condizione marino-costiera della nostra scorsa estate non era affatto critica, come invece fu fatto passare da un'onda mediatica e da una serie di interpretazioni di dati che a nostro giudizio erano incongruenti con la realtà microbiologica del nostro mare. Quali sono state le prove e le evidenze per dire che il mare poi in realtà era balneabile? Noi abbiamo eseguito attraverso un protocollo ISPRA la stessa tipologia di analisi microbiologiche sui dati della balneabilità del nostro mare, ottenendo risultati che ci davano una condizione di eccellenza e abbiamo esteso questo tipo di analisi anche ai bioindicatori marini, notando una biodiversità e una struttura della biodiversità che era addirittura superiore a quella degli anni precedenti. In un'occasione avete fermato un tecnico dopo il campionamento per dirgli cosa? Noi campionavamo proprio nelle stesse ore, negli stessi giorni dei campionamenti Arta e abbiamo notato come almeno uno del personale Arta incaricato dei campionamenti palesemente non rispettava i protocolli di campionamento microbiologico, essendo carente di tutta una serie di attrezzature e non adottando determinate tipologie di procedure. Le istituzioni si sono rivolte a voi quando avete pubblicato i dati? Assolutamente no, sembra quasi che temessero questo tipo di confronto, sembrava addirittura che volessero continuare a credere in un elemento di emergenza piuttosto che cercare di approfondire, magari anche confrontandoli i nostri dati con quelli ufficiali. Grazie a tutti.